Qua dato che sono tutti scarsi, giocano tutti senza costruire cose, non si capisce niente, sembra una partita di Fortnite come i berecchi tempi. Ciao a tutti ragazzi, qui è FortiGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Sono ragazzi che non mi sono fatto sentire per un paio di giorni su YouTube, ma è perché ho lavorato ad un progetto veramente figo, con qualcuno di ancora più figo, di cui vi narrerò nei prossimi giorni su tutte le mie pagine social, sia YouTube, sia Instagram, sia TikTok, insomma su tutte. Voi infatti seguitemi, trovate tutti i link di queste pagine in descrizione. Oggi ho voluto fare una semplicissima partita in arena su Fortnite, io sono ancora in lega aperta e questo mi ha permesso di ottenere un game veramente niente male. Vi ricordo per questo video di lasciare un like, ma soprattutto di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina. Noi intanto andiamo in game. Ah, poi ragazzi, vi trovate, vi ricordo assolutamente di inserire all'interno dell'idem shop il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo. Accettate, e da ora ogni acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale. Mi raccomando, anche se l'avete messo di recente, rimettetelo perché ve lo levano ogni 14 giorni. Ora giuro che andiamo in game. Ah, ragazzi, che bello essere tornati a giocare a Fortnite dopo circa 10 giorni che non ci gioco. Ormai i miei video sono sempre così, ogni volta che inizio un video ci sono io che non gioco a Fortnite 10 giorni, quindi costantemente le prendo. Cioè, non ci sarà mai un video nel quale io riuscirò effettivamente a vincere una partita, capito, in maniera easy. Tra l'altro con il mio ping che non aiuta mai, ma ormai questo è un problema mio. Stiamo giocando in arena, tanto così perché mi piaceva essere gioinato con gente che non sapeva giocare, in maniera molto chill. Bella. Bella, doppia, ok, va bene. Che bello giocare con gli scarsoni, è proprio divertente. Tanto a breve vero eliminato anch'io e vedrò chi è il vero scarsone. Oh, un tizio. Guarda, guarda, com'è forte, com'è forte. Chiudi la porta, chiudi la porta. No? Vabbè, diciamo che ci hai provato, ti vogliamo bene comunque. Guardando questa partita la posso fare qualche kill in più, tanto veramente è stata tutta gente scarsa. Dai, guardate sto tivo. Questo è un bot? No, non può essere un bot. Ok. Vabbè, wow. Ok, ragazzi, veramente non so come sia possibile che sia solo questa gente in giro. È scandaloso, devo cambiare arma perché sto finendo i proiettili. Cosa? Vabbè, non ho giocato seriamente in questo caso, sono uno stupido. Se riesco a non cadere vi iscrivete al canale, ok? Ci sono? Ci sono? Sto per cadere? No, no. Attenzione? Attenzione? Ok? No, no, no. Vabbè, iscrivetevi comunque al canale. Vabbè, ragazzi, abbiamo capito che il livello medio dei player è ho iniziato a giocare l'altro ieri. Di conseguenza potremmo tentare anche un 15 kill. E non lo dico perché sono forte o cold. Cioè, letteralmente ho 100 punti in arena, quindi. Il livello medio dei player è evidentemente basso. Eh, ha funzionato. Solo che ho qualcuno sotto. No, no, no. Ok, l'ho rubato io. Tutti zitti. Ho quattro proiettili. Cavolo, questa non ci voleva. Quattro proiettili, non devo sbagliare manco uno. Eh, sta Loki qua sotto, questo me mena. Mamma mia, prendi questa pistola. C'è quello con questo fucile a pompa, ok. Mamma mia, ragazzi, che casino. Questa cosa mi dà un'ansia incredibile. Qua, dato che sono tutti scarsi, giocano tutti senza costruire cose, non si capisce niente. Sembra una partita di Fortnite come i ben vecchi tempi, cioè, veramente. Ok, calmi. Ma questo non si era accorto che stavo qua, scusami. Vabbè, riperoni, brother. Cavolo, sta arrivando qualcun altro. Ok, è a posto. Ho anche una jump. Qua devo chiudere perché sto tirando un bel po' di attenzioni. Poco discrete, diciamo. Ah, non so giocare. Ok, fuggio. Cosa ho detto? Fuggio. Cosa significa? Non so neanche più parlare italiano. Ma perché col fucile a pompa? Non so più giocare. A posto. Ok, devo chiudermi. A posto. Calmi. Ah, sta arrivando qualcuno addosso. Non so neanche io come sono riuscito a salire. Vabbè, questo è un secondo account valese. Si gode, cade. Distrutto. GG, broderinio. Ah, no. Godo. Direi che sia il caso di cominciare a cambiare arma. Anche per ottenere un po' di munizioni in più. Questa comunque è la mia arena, ragazzi. È l'arena perfetta per me. Il livello dei player è proprio il mio. Spaz? Ok. Questo sta messo benissimo. Assalto. Niente di che. In zona, a meno che non mi arrivi un fucile. No, stavo dicendo sembrano finiti. Non sono per nulla finiti. Mamma mia. Pizzeria, broder. Che cosa mi ha colpito? Era il fucile di precisione che mi ha colpito. Sigrid abbia fatto un no-scope. Ah, qua stava un assalto migliore. Prendiamo una macchinina e facciamoci qualche giro. Dai, che come vi ho detto voglio puntare almeno alle 15 kill. Dovrei fare benzina, ma mi accontenterò. Oh, lama. Oh mio Dio. Perché questo lama si muove? Ma che cosa inquietante. Oddio. Cosa sta facendo questo lama? Dai. Oh, non c'è arrivato un proiettile. Diciamo che questo dizio non ci credeva abbastanza, ecco. Oh, spara pure. Troppo forte, broderì. Diciamo che male mi ha fatto, eh. Tra l'altro il lama è scappato. Comunque è una figata il fatto che ci siano ora dei lama nuovi, che tipo ti rilasciano oggetti man mano, capito? Cioè tu gli elimini un pochino, magari ti troppa una puzza grande, una puzza piccola. Carino, carino. Cavolo. Ok. Jump, jump, jump. Non cadere. Vabbè. Cioè la jump cade. Ma che controsenso. Mi servirebbe un'auto solo che ho paura che questa sia troppo distrutta. Fatemi vedere un po'. Ci accontentiamo, restiamo umili. Ah, passiamo a Bonnie Burbs che l'ho sempre amata come città, guardate. Ah, la mia preferita, insomma. Manca! Is this a joke, bro? Ah, questo è forte. No, 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 no. Fa cadere? Cavolo. Era forte, sì, guys. Ok. Ma c'era, ragazzi, il tizio che ci ha ingaggiato prima che era fortissimo, cavolo. Infatti ho sentito uno sparo a caso. Forse è lui che... Esatto, sì, credo sia proprio lui. È probabile che quei due si siano ingaggiati. Infatti vedo costruzioni, sì, eh. E quello era il tizio forte, ragazzi. Per ora evitiamolo, non fa niente. Tanto due kill, credo comunque di riuscire a farle per l'endgame. Non mi fa costruire. Mamma mia che mi sono evitato. Ottima notizia. Veramente divertente. Divertentissima. La persona che ha eliminato quel tizio, quel fucile di precisione, credo stia mirando me attualmente. Se solo avesse il fucile di precisione ora, me lo sono appena levato. Uh! Bloccato. Ok, io sto finendo i materiali. Da ora devo fightare cercando di non usarli. Come lui, eh, tra l'altro. Finito i materiali. A posto. Godo. Via. Ok. Rischiatissima, pensavo non mi avesse visto. Io là sopra non so se c'è ancora qualcuno, quindi proverò un attimo a tranquillizzarmi. Ok, la direzione in cui si deve andare è questa, tipo. Probabilmente mi troverò io a fightare con il tizio sotto di me, quindi... Incrociamo le dita, boys. Devo sperare solo che la safe se ne vada a mio favore. Non la capisco questa safe. Ok, no, no. Sta andando decisamente a mio favore. Caduto? Si gode, signori. 16 kill. Ok. Ripeto, non è stata una partita grandissima perché erano tutti scarsi, però è stato comunque divertente fare 16 kill in arena. Ok, ci sto. Poi, inzio, questa partita è stata piuttosto cil, perché alla fine abbiamo trovato tutta la gente piuttosto scarsa. Ma tanto era giusto per giocare un po' insieme e per rifare un po' di arena. Vi ricordo, come sempre, di utilizzare il codice creatore porto all'interno dello shop, di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e soprattutto di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete il progetto, ragazzi, che sta per arrivare. E vi assicuro, ragazzi, è una cosa veramente figa. Lasciate pure un like, non vi trovate ormai? E noi, boys, ci becchiamo alla prossima. Grazie a tutti.